carissimi ragazzi ci troviamo oggi qui con addy e voglio far vedere come registrare il vostro schermo dell'iphone prima cosa è scrivere sull'app store o su internet web demo e cercarlo come potete vedere questo qui il primo vi lascerò il link in descrizione si può scaricare anche da app store come ho già detto l'unico problema è che si può registrare soltanto le cose su internet è un'applicazione gratis quindi non dovete spendere niente e non dovete fare nessun background ci vediamo al prossimo video